Sono fermamente convinto che registrare in piena estate sia uno dei metodi più efficaci per uccidersi probabilmente. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi, primo luglio, è uscita su Netflix la seconda parte e gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things che era naturalmente una delle cose che aspettavo di più da quando si è saputo che appunto la quarta stagione sarebbe stata divisa in due porzioni. Gli episodi adesso sono su Netflix, li ho già visti, alle 9 mi sono messo davanti la tv e ho aperto Netflix anche perché questa volta gli episodi non mi sono stati dati in anteprima al contrario del volume 1 e capisco anche perché. Infatti Stranger Things sicuramente non è un prodotto di punta di Netflix, è il prodotto di punta di Netflix e magari hanno voluto evitare qualche spoiler da parte di qualche giornalista creator geniaccio che pur giurando diciamo così di non divulgare nulla avrebbe dato problemi. Prima di iniziare come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok tutto in descrizione assieme al link di Pampling, sito di t-shirt e non solo a Tema Nerd dove solo per oggi 1 luglio fino alle 23.59 troverete la t-shirt di Stranger Things dell'Hellfire Club. Ottima qualità, solo 10 euro e da domani non la troverete più quindi se la volete affrettatevi a prenderla oggi. Vi informo come sempre dell'esistenza del codice ILPENSIERO4 che vi darà la possibilità di supportare intanto il mio canale e il mio lavoro ma anche di inserire nel vostro carrello un paio di calze a scelta che vi verranno a costare solo 0 euro perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ripeto che il link di Pampling lo trovate in descrizione assieme a tutti i link dei miei social e i miei consigli per l'acquisto. Ma adesso iniziamo con la recensione che proprio come la quarta stagione di Stranger Things sarà divisa in due parti, la parte senza spoiler e la parte con spoiler che sarà anticipata da un avvertimento, state tranquilli. Come ho già detto questa volta gli episodi non me li hanno dati in anteprima per evitare naturalmente spoiler da possibili infami e quindi ho dovuto vederli oggi come tutti. Attendevo tantissimo questi due episodi perché se avete visto la recensione del volume 1 saprete che avevo parlato di questa quarta stagione come possibilmente la migliore della serie ma aspettavo appunto la fine per decretarla tale. E quindi, sono rimasto della stessa idea? Sì, la quarta stagione di Stranger Things è la migliore di tutta la serie e non solo per il livello tecnico che si è nettamente superato dalla terza e soprattutto le altre stagioni ma proprio il modo in cui viene presentata persino dai trailer non sembra una serie. Vedetelo come un complimento, non è un difetto naturalmente, sembra un blockbuster da cinema e gli episodi danno assolutamente una conferma. Si capisce benissimo che su Netflix esiste Stranger Things e poi esistono le altre serie. Non sto parlando naturalmente di qualità perché so che comunque esistono serie migliore a livello qualitativo di Stranger Things ma l'effetto, la reazione dei fan ma anche di tutto il mondo a queste strane cose penso ad una prima volta per un qualcosa di Netflix. Infatti mi aspetto ancora altri record per questo secondo volume ma per la serie in generale. La quarta stagione non è l'ultima della serie e guardando gli episodi l'avrete sicuramente capito. Infatti ci sarà una quinta, quella sì, che sarà l'ultima e chiuderà interamente Stranger Things poi ci saranno gli spin-off ma il titolo Stranger Things finisce con la quinta stagione e hanno deciso di dividerla in due parti perché semplicemente non volevano far attendere ancora di più i fan. Infatti l'ultima stagione, la terza, era arrivata nel 2019 e abbiamo aspettato tre anni per avere il volume 1 e siccome per gli ultimi due episodi la post-produzione non era ancora conclusa, non era finita al posto di far aspettare ancora mesi ai fan hanno deciso di dividere in due gli episodi. Una divisione per nulla equa, avrei preferito 5, 4, 4 e 5 però l'importante è che comunque è arrivata e siccome penso abbiate notato la differenza tra un taglio e l'altro ho rimesso i capelli come li tengo di solito perché nonostante ci sia tantissimo caldo mi sto davvero sciogliendo sulla sedia, guardavo nello schermetto della camera e non mi piaceva assolutamente come stavano. Torniamo a noi, l'ottavo episodio riparte esattamente da dove ci eravamo lasciati con il settimo anche perché comunque davvero una continuazione, non è un nuovo inizio tanto che dopo che vengono sistemate alcune cose che comunque avevano più o meno spoilerato da spot e trailer anche se comunque non è che fossero spoiler così tanto importanti ma era comunque un cliffhanger non voglio dire di quale sto parlando ma era comunque un cliffhanger del settimo episodio e ce l'hanno spoilerato tra virgolette nello spot dopo che vengono sistemate alcune cose si riparte subito con l'azione. I personaggi sono ancora divisi in gruppetti fortunatamente il gruppetto di Will, Mike, Jonathan e l'amico di Jonathan di cui non ricordo il nome scusatemi questo gruppetto ritorna importante e aveva perso la sua importanza nel volume 1 soprattutto nell'ultimo episodio dove non compariva per nulla ecco è abbastanza palese il motivo per cui riprende importanza non voglio dirlo nello specifico ma c'è comunque un incontro incontro che è preceduto da delle scene davvero mozzafiato in questi due episodi ci sono davvero scene stupende soprattutto a livello grafico a livello di effetti visivi e non effetti speciali penso non ci siano così tanti effetti speciali nella serie Stranger Things a parte Vabbè Vecna che è il villain perfetto ci sono tante scene realizzate bene ma anche molto epiche soprattutto alla fine dell'ottavo episodio intitolato Papà e a proposito mi aspettavo il colpo di scena se così vogliamo chiamarlo della fine dell'ottavo episodio ma non me lo sarei aspettato in questo modo credo che abbiamo finito adesso penso non ci sarà un'altra sorpresa nella quinta stagione così riguardo questo colpo di scena dell'ottavo episodio fin dall'inizio i ragazzi mettono in atto la preparazione per il piano finale per sconfiggere Vecna e tutta questa parte con diversi spezzoni anche dagli altri gruppetti compresi quelli in Russia appunto Joyce, Murray, Enzo e ovviamente Hopper tutta questa parte di preparazione anche se intervallata da altre scene mi è piaciuta molto ci sono anche diversi ostacoli durante il cammino scene divertenti comunque sappiamo che Stranger Things alla fine non è che sia totalmente horror non è al 100% una serie horrorifica ha qualche tinta assolutamente funzionante quella ma per lo più è una serie team che funziona e possiamo vederlo tranquillamente vorrei parlare già adesso dell'elefante nella stanza ovviamente senza spoiler perché qualche tempo fa i Duffer Brothers i produttori della serie avevano detto che in questa stagione ci saremmo dovuti aspettare delle morti tante morti ci sarà una carneficina dicevano i due e ci saremmo dovuti aspettare anche la morte di qualche personaggio importante così è stato non entro ovviamente nello specifico ne parliamo poi nella parte spoiler posso dire solamente che mi aspettavo le morti che abbiamo visto quindi non sono rimasto così sorpreso certo mi è dispiaciuto ma non sono rimasto così sorpreso non mi aspettavo invece la sorte di un certo personaggio che sembrava già dai trailer avere la morte tatuata in faccia oltre a fare complimenti continuo a Stranger Things e il suo lato tecnico non posso fare infatti sia le parti horror sia le parti teen sia le parti d'azione sono realizzate in modo ottimo questa miscela di componenti non annoia mai per esempio uno spettatore non adora così tanto le scene teen ok hai la parte horror o la parte d'azione non ti piace il genere horror? hai la parte d'azione e la parte teen tralasciando ovviamente quelle piccole parti in cui sembra una una comedy ma veramente pochissime scene lo sono tornando a parlare ancora dei Duffer Brothers avevano detto che in questa stagione avremmo scoperto alcune cose ma altre le avremo scoperte poi nella quinta e anche dal finale possiamo capire il perché non ci hanno spiegato le altre cose che probabilmente avremo poi fra qualche anno come minimo nel 2024 lo dico tristemente nonostante non ci abbiano spiegato ancora tutto hanno spiegato più di quello che mi sarei aspettato e diciamo che alcune cose le avevo anche azzeccate altre in un'altra versione altre invece proprio fuori strada ho notato che in molti hanno pensato ad una cosa che effettivamente è successa l'ho già detto Vecna, miglior villain di Stranger Things è probabilmente uno dei miglior villain di serie tv in generale con una sola stagione da 9 episodi questo personaggio è già diventato iconico anche per diverse scene che non comprendono lui come assoluto protagonista per esempio nel quarto episodio la scena di Max che scappa dalla sua mente dal controllo di Vecna con la canzone di Kate Bush di sottofondo ecco quella scena è già totalmente iconica e naturalmente di mezzo c'è Vecna e anche in questi ultimi due episodi ci sono delle scene che sicuramente diventeranno un masterpiece in generale di Stranger Things ma anche di Netflix tutta passiamo già a parlare del finale ovviamente senza spoiler perché a parte qualche piccola chiusura di qualche personaggio che non mi sarei aspettato l'ho già detto prima l'intero finale, l'ultimo colpo di scena è qualcosa che non mi sarei mai immaginato soprattutto prima di vedere questi due episodi questa quarta stagione si chiude con il più pericoloso cliffhanger dell'intera serie se ci pensate le altre tre stagioni non avevano mai avuto un cliffhanger finale di questo genere è la cosa da una parte brutta ma dallo stesso tempo ci sarà un hype enorme la quinta stagione ripeto non arriverà prima di fine 2023 o 2024 o poi magari fra qualche giorno arriva la notizia che eh no ma già stiamo girando avevamo già girato qualcosina durante le riprese della quarta stagione non vi abbiamo detto nulla per non qualcosa del genere qualche sorpresa dai Duffer Brothers un annuncio che arriverà il prossimo anno proprio a metà estate come questa volta ma la vedo molto molto dura quindi aspetteremo ancora un po' per vedere la quinta e ultima stagione di Stranger Things ripeto prima di passare al voto e poi ovviamente alla parte spoiler la quarta è la miglior stagione di Stranger Things e l'intera Stranger Things è una delle migliori è e sarà sempre un cult delle serie ma prima di passare alla parte spoiler e entrare dettagliatamente nei dettagli come sempre do un voto al prodotto che recensisco ed il voto per il secondo volume ma in realtà è un voto complessivo per la quarta stagione di Stranger Things è un otto e mezzo tendente al nove so che ne ho parlato solamente bene in questo video ma sinceramente avrei preferito qualcosa di diverso per la durata non che mi sia annoiato ma ci sono molte parti che avrei tranquillamente tolto da diversi episodi o avrei accorciato qualche scena oppure avrei totalmente tolto alcuni dialoghi che ho trovato non così tanto funzionali e se devo pensare in realtà ad alcuni utilizzi di alcuni personaggi beh per esempio i buyers a parte Joyce in questa stagione tralasciando qualcosina degli ultimi due episodi sono stati abbastanza inutili ma è in realtà tutto il gruppetto della pizza lì nel primo volume soprattutto ma ragazzi se ancora non avete visto gli ultimi due episodi di Stranger Things vi invito a lasciare questo video e tornare solamente dopo aver visto la serie perché infatti gli spoiler e i dettagli inizieranno tra 3, 2, 1 parto col parlare delle morti che abbiamo visto in questi ultimi due episodi tralasciando comunque tutti i personaggi che non sono importanti per esempio i diversi soldati che sono morti a schermo o anche in realtà il tizio lì il bullo che muore verso la fine mangiato dal sottosopra in qualche modo ecco tralasciando questi vorrei parlare solo dei personaggi importanti quelli di cui parlavano i Duffer Brothers il primo dei personaggi importanti a morire è stato appunto Brenner nell'episodio 8 ed è il cliffhanger finale di quell'episodio di cui parlavo prima non mi sarei aspettato vederlo morire in questo modo quindi sparato semplicemente dai militari sinceramente mi sarei aspettato più uno scontro con 11 cosa che stava succedendo effettivamente ma in realtà 11 comunque sottosotto probabilmente gli vuole anche bene quel pochino forse però appunto mi sarei aspettato un'altra morte mi aspettavo morisse nella stagione speriamo che questa sarà l'ultima visto che era già morto nella prima stagione mangiato dal demogorgone e in questa quarta magicamente è resuscitato non ci hanno spiegato come e a questo punto penso non lo spiegheranno mai una cosa che non mi ha fatto così tanto impazzire in ordine poi abbiamo Eddie che è stato introdotto in questa stagione e già ci ha salutati ma con una scena che avevo abbastanza previsto non proprio in questo modo per tutta la stagione non ha fatto altro che lamentarsi di se stesso dicendo che è un codardo scappa sempre non ha la possibilità di vincere contro qualcosa dicendo sempre questo è il mio anno questa volta mi farò valere e infatti si è fatto valere tutti ancora Dawkins lo pensano un satanista non credo cambieranno idea ma almeno gli amici quelli che sono diventati amici in questa stagione sanno che è stato un eroe e alla fine soprattutto dopo la morte non è che sia così tanto importante la fama quello che le persone che non conosci pensano di te l'importante è aver saputo che quelli che in vita ti hanno voluto bene hanno tenuto a te adesso pensano che in qualche modo hai salvato la situazione certo lui è morto non è morto esattamente in vano però comunque non è che Hawkins si sia salvata così tanto tra l'altro editando il video mi sono accorto che mi sono dimenticato di una delle scene migliori di questa stagione la schitarrata di Eddie nel sottosopra già attendevo tantissimo questa scena ma se poi mi ci metti Master of Puppets dei Metallica io ti adoro Stranger Things o chiunque abbia avuto questa fantastica idea ma prima di passare al finale parlo di Max perché infatti parlavo prima di un personaggio di cui non mi sarei aspettato questa sorte e stavo parlando proprio di Max perché io mi sarei aspettato totalmente la sua morte e invece sì comunque è stata di nuovo catturata da Vecna è arrivata questa volta ad un passo più avanti nel morire nella casella della morte infatti stava iniziando ad accartocciarsi come le vittime di Vecna però Undici è riuscita a salvarla almeno da Vecna in quel momento lei è caduta tra le braccia di Lucas che naturalmente ora le starà più vicino però è morta comunque solo per poi avere quella scena con Undici che le mette la mano addosso e probabilmente la resuscita quindi Undici ha anche questo potere lo scopriremo sicuramente nella quinta stagione dove avremo qualche informazione in più credo almeno spero non dimentichino così questo colpo di scena questa nuova rivelazione ma in realtà penso che questa potrebbe rivelarsi è una cosa abbastanza pericolosa per Stranger Things per la quinta stagione o per il futuro in generale della serie perché se adesso Undici ha questo potere la serie non avrà più dei guizzi di coraggio quindi non so far morire Will o un personaggio ben più importante di non so Max o Brenner o Eddie basta che muore lei mette la manina su e ritorna in vita spero solo che sia un potere che richiede un grande sforzo da parte di Eleven magari è proprio lei che dà una parte della sua vita al cadavere diciamo quindi lo resuscita con la sua stessa vita e quindi non può farlo all'infinito non è una cosa che può fare altrimenti muore perché se fosse tutto a posto e andrebbe in giro facendo il Gesù Cristo della situazione non apprezzerei così tanto parlando quindi del finale non mi sarei mai aspettato che il piano di Vecna andasse a buon fine perché nonostante è ferito non è ancora morto Hawkins è sotto attacco da parte di quattro grandi portali che hanno fatto una croce sulla città sono morte tantissime persone molti sono feriti molti sono scappati da Hawkins ci sono pochissime persone ancora in città molti sfollati molti che non sanno davvero cosa fare e a parte l'unione finale di tutti i gruppetti che abbiamo visto divisi in questa stagione la scena con cui si conclude quindi il sottosopra che effettivamente almeno quello che ho capito sta uscendo da questi portali mi fa pensare che nella quinta tutti proprio tutti sia a Hawkins ma che magari in realtà in tutto il mondo avranno a che fare con il sottosopra e le creature quindi tutti sapranno dell'esistenza di quest'altra dimensione o qualcosa del genere siamo arrivati davvero all'inizio della fine come dice Vecna quindi il sottosopra entrerà nel mondo reale speriamo solamente che nella quinta stagione ci venga spiegato come si è creato tutti gli effetti il sottosopra qui vediamo che è stato uno barra Henry barra Vecna a formare il sottosopra non a crearlo lo ha modificato a suo piacimento lui è stato teletrasportato lì da undici ed essendo appassionato di Dragni e di Vedo Venere ha creato con quella nube che ha visto il Mind Flayer quindi al contrario di come avevo detto in qualche video non è lui a stare sotto il Mind Flayer ma è stato lui a formare a creare il Mind Flayer e comandarlo quindi qui scopriamo che è sempre stato uno barra Henry barra Vecna da sempre in qualsiasi forma in qualsiasi stagione e devo ammettere che anche questo non me lo sarei aspettato la scena in generale nel sottosopra prima che diventi la Hawkins sottosopra appunto mi sono piaciute molte la formazione del Mind Flayer ecco è una cosa che ho apprezzato però questa volta Dustin ha sbagliato Vecna non è il generale a 5 stelle del Mind Flayer Vecna è letteralmente il dio del sottosopra e infatti sapevo fin dall'inizio che non sarebbe morto in questa stagione anche quando stava bruciando tra le fiamme dicevo tanto non muore è veramente il capo di tutto quindi non lo faranno morire sarà lui il villain finale da sconfiggere e così è infatti nella quinta stagione sarà ancora lui il villain magari con un'altra forma non credo però vedremo so solo che adesso è ancora più sfigurato di quanto non era prima tra l'altro tutta la storia dei quattro rintocchi dell'orologio le quattro vittime i quattro portali che si sarebbero aperti è una cosa che ho apprezzato e la scena in cui questi si aprono è qualcosa di stupendo sicuramente non mi sarei mai aspettato di vedere il bullo tranciato in due dall'apertura di un portale e ammetto di aver avuto una certa soddisfazione quando Lucas ha iniziato a picchiarlo forte ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa pensate di questa quarta stagione di Stranger Things se volete fare spoiler mi raccomando contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler poi lasciate qualche spazio così da far comparire la dicitura legge tutto solita dei commenti e poi scrivete il vostro messaggio così da non spoilerare i dettagli di questa quarta stagione di questo secondo volume a chi ancora non l'ha visto mi raccomando fate questa procedura perché altrimenti il commento salterà nel sottosopra vi invito come sempre a seguire gli altri social trovate i link in descrizione vi ricordo che in descrizione c'è anche il link di Pampling codice il pensiero 4 per il 20% di cashback e un paio di calze gratis fino ad oggi fino alle 23.59 avrete la maglietta disponibile dell'Elpha Air Club e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao